Musica Perché già con la scelta del nome Giovanni, voluta dal Signore e non cerca dai parenti. Il Signore vostro padre che oggi si è riunito per celebrare la celebrità di San Giovanni Battista. E' una festa, alcuni buoni ragionanti. Eccoci qua. C'è un'offerta? Come festeggiano di là? Di là con fagot, con fagot, con fagot, e c'è questo fagotino che è lo squalis, che è il tipico riso alla cultura, a volte nella foglia di banana. Ed è il cibo tipico che mangiate per San Giovanni? Per San Giovanni con questo cibo rappresenta un cambio sociale perché tra di tutti si confrontano la bontà che realizzano su questo piatto. Iniziano i festeggiamenti già la sera prima come da noi? Già la sera prima con il palò e i preparativi. Ah, quindi il palò si fa il 23? Il 23 sera, sì, sì. Tutta la tradizione si tramanda, visto? Tutta la parte del mondo festeggiamo sempre così. Grazie perché festeggiamo insieme, è bellissimo conoscere le vostre tradizioni. Ciao e buona festa! Il maierdomo ha comito il sujuanes? Sì, c'è il capace per il cielo. Sì, sì, sì. Meraviglioso, stupendo, che delizia, è molto saporito, ottimo. Grazie. Grazie. Grazie.